Presidente, allora oggi siete qui a Pescara per dire no all'abbattimento di alcune ville storiche nella zona sud della città, perché? Noi siamo nella nostra città e praticamente riteniamo che questa sia la zona che ha dato veramente lustro a tutta la città, nel senso che c'è la pinità d'Annunziana, c'è l'Aurum, tutto quanto, eccetera, e c'è questa identità specifica che riguarda il senso di appartenenza dei cittadini a questa città che prima non esisteva, era un borgo, oggi è una grande città e purtroppo non vuole conservare ciò che di bello è stato costruito nel passato. Questi villini sono la testimonianza di ciò che era bello nel passato e che purtroppo l'età moderna non vuole conservare, anche se ci sono stati cittadini illustri che hanno conservato molte cose, purtroppo ci sono altre persone che tendono a distruggere e noi ci opponiamo a questo con tutti i mezzi, compreso quello della denuncia alla Procura della Repubblica.